Ora arriva questa notizia, il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca ha depositato un esposto al collegio di disciplina dell'ordine dei giornalisti per gli attacchi sul caso Francia, sostanzialmente contro la sua redazione che ha rinforzato la testata di non fare servizio pubblico. E' delicato ma esprimiti senza... Ma sai, veramente ha ragione Rula, ti viene in mente l'Iraq, ti viene in mente l'Egitto, le autocrazie, ti viene in mente Orwell, banalmente Orwell 1984, è una situazione grottesca, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, perché noi paghiamo il canone. Allora noi dobbiamo sempre partire da questo presupposto, stiamo parlando, come sempre si dice, della prima azienda culturale del Paese, stiamo parlando di quelli che dovrebbero fare servizio pubblico, ma al di là della vicenda specifica. Ma non è un'indecenza che io, domenica sera, se volevo capire che cosa stava succedendo, in Francia, non in Artide, ok? Elezioni fondamentali, ballottaggio noto da giorni e giorni e giorni, dovevo guardare Ventana, sulla 7. Oh, è come se fosse una condanna, ero orgoglioso e contento di guardare Ventana. Io sono contento, probabilmente l'avrei guardata comunque, è che se la RAI avesse fatto anche, però voglio dire, ci rendiamo conto della gravità del fatto, e poi ecco, tutto questo si accompagna ad una reazione, e io la considero vergognosa, da parte di questo direttore. C'è anche un tema di intimidazione. E aggiungo un elemento in più che ritorna alla notizia di ieri sera, quando si è dimessa la vice direttrice di RAI News 24, no? Allora, siccome l'ho fatto anche, ho avuto l'avventura di fare il direttore responsabile, si chiama così nei giornali o nelle testate giornalistiche, direttore responsabile. Perché qualunque cosa accada, il responsabile è lui. Bene, che si dimetta una vice direttrice e lui rimanga lì, anzi, non solo rimane lì, ma fa un esposto contro i giornalisti. È una cosa che, ma neanche Putin la fa, neanche Peskov la fa, capite? E quindi, onestamente però, è un tema di cui ci dovremmo far carico tutti noi, che siamo opinione pubblica, e i vertici RAI. Perché questa è una questione che chiama in causa anche i vertici, che finora non hanno aperto bocca sul tema. No, neanche devo dire la politica, che pure, insomma, sulla RAI... È una vergogna, guarda, è altro che Telemeloni, è una vergogna. Telemubarak, ecco. Telemubarak, Aia, Daniele, ti rivediamo.